Loco, oggi andremo a catturare un sacco di Pokémon leggendari in ogni Lucky Block, hai visto Loco? Però oggi la sfida è un po' più interessante, abbiamo la possibilità di cambiare tre volte la corsia con il nostro avversario Quindi, quando vuoi, tu ogni volta potrai dirmi, voglio cambiare corsia e grazie per avermi lasciato il tuo enteio, ok L'hai preso tu Loco? Allora ragazzi, voi mi raccomando lasciate un mi piace, scrivete nei commenti di hashtag che sono un campione Per essere salutati in un passione video con i vostri campioncini, prima di fare il cambio corsia, devi aspettare che io apro tutti quanti Lucky Block Eh no, Loco, eh sì, dobbiamo andare alla pari, ok, grazie No, 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 Loco, grazie No, Loco, mi ero vato in te Ti meriti, guarda, ti meriti il Team Rocket, ti meriti Loco, guarda, ti meriti il Team Rocket Quindi già tu al primo colpo decidi così di cambiare corsia, Loco, vabbè, ma perché in così poco tempo, scusa? No, ho già trovato un sacco di Pokémon leggendari nella tua, eh Io ne ho tre Allora, sappi che però il tuo Cresselia che tanto hai trovato, l'ho rubato io, ce l'ho io nel mio inventario Su, Ikun, grazie, ok, non ci provare mai più, Loco, perché tra un po' ti chiamo io il cambio corsia, ok? Cambio, 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 cambio Cambi? Allora, aspetta un attimo No, 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 ho preso l'unala Ah, l'unala? Aspetta, aspetta, calma, calma, calma Io voglio vedere i tuoi Pokémon leggendari quando li trovi, Loco, perché ho bisogno poi di rubarli, capito? Cosa hai trovato? Cosa hai trovato? Oh, grazie, grazie Andoi trovi un'ultracreatura Ah, hai fatto un cambio così corsia, Loco? No, non ancora Cambio corsia? Ora lo chiamo io, ok Ok, oh, oh, ti ho detto cambio corsia, ti ho detto schifoso Ok, calma, 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 allora mi raccomando, Loco, adesso tu mi dici nei commenti di questo video, Loco Quindi commenterai pure questo video, ti avviso Qual è il tuo Pokémon leggendario? Prefitto, ma nella sua versione Shiny Oggi voglio fare questa domanda anche i miei amici da casa, ragazzi Raiquaza è proprio figo Raiquaza, Shiny, tutto quanto nero, giallo È bello, è bello Invece come starter Shiny, Loco, qual è il tuo preferito? Ciao Rizard Ciao Rizard, Shiny è bello, eh Questo è bello Però ti dirò, ti dirò, ti dirò Anche Sheptai Shiny, che è quel colore verde acqua, è molto bello Non so se l'hai mai visto, Loco L'hai mai visto? Sì, l'ho visto, non lo ricordo Ok, 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 meno male, meno male Cambio! Grazie per questo appofini Eh sì, perché ho trovato un altro leggendario, quindi Eh, non trovo niente Quella corsia lì di destra non mi sembra molto fortunata Infatti guardo, io cambio e mi trovo un altro Cresselia leggendario, ci ha capito? Di qua vedo un po' più di fortuna, Loco, in questa corsia io Però, beh, magari E in realtà Alga Cos'hai trovato? Oh, Lugia Beh, io ho trovato Di Alga quando ho detto ho trovato Lugia, eh Quindi meglio voglio, voglio godermeli questi Salto Lugia Oh, non si può catturare Lugia Sì, sì No, l'ho preso io, l'ho preso io, l'ho preso io Fidati, l'ho preso io Ti dico che l'ho preso io, Loco Vediamo chi l'ha preso? Eh, vedremo Vedremo a cui uscirà poi Lugia nel nostro PC Vediamo, vediamo poi Però ne proseguiamo, andiamo avanti Anche perché la chat è oscurata Quindi non sappiamo Se abbiamo rubato il Pokémon leggendario del nostro avversario È anche un po' questo il bello della sfida, caro buon Loco Però comunque diciamo, quindi Starter Shiny Charizard ti piace come evoluzione Il tuo meal preferito Leggendario, hai detto, Raiquaza Ultracreatura Oh, guarda te, guarda te Cagliogra è infallibile, ragazzi Devastante le nuove attaglie Dicevamo, ultracreatura Shiny invece, Loco? Non lo so, non è che le conosca così bene, sinceramente, l'ultracreatura Male, molto Cambio Quindi mi sembra stacca-tacca Vi sfallo mini qua Ok, ho detto cambio, Loco Io ho un ultimo cambio poi Ti va bene, ti va bene Stacca-tacca è molto bello Stacca-tacca è bello Un po' anche per il meme del nome, Loco, in realtà È molto bello Voi ragazzi da casa, scrivetemi nei commenti Qual è il vostro Pokémon leggendario preferito? Shiny Guarda com'è andato avanti Mi ruba i Lucky Loco, adesso stai fermo Cosa? No, no Cosa? Perché? Fermo Allora 1, 2, 3, 4 e 5 Niente Mamma mia, che schifo, eh Ma Oh! Loco! Cosa? Cosa? Grazie perché non mi hai preso l'unico Lucky Block Davvero? Magherry Molto bene Meglio per me Meglio per me Sono solo che contento io così, Loco Sono Immobile, immobile Cambio così Va bene, va bene Ora Con calma, Loco Guardami Ora li apriamo assieme uno alla volta Vai 1, 2, 3 Se Aspetta, 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 aspetta Ho una sfida Se Azzecchi E c'è il Pokémon leggendario Dentro al tuo Lucky Block Quando lo dichiari Potrei rubare un Pokémon leggendario della mia squadra finale Oh, mi piace Ok Vai Per me nei prossimi 3 c'è un leggendario da me da te Anche per me nei prossimi 3 1, 2, 3 Niente Niente, vi facciamo Qua non ce l'ho, qua non ce l'ho Io qua ce l'ho No Ok Qua non ce l'ho Allora, nei prossimi 4 io ce l'ho invece Eh, io nei prossimi 18 ce l'ho No, no, Loco Non puoi fare con questi numeri giganti Ora, 1, 2 Oh, ho, ho, ho Tapu, buu Aspetta, però Se non secco io Se non secco io Se non secco tu puoi pareggiare Nei prossimi 4 ce l'ho No, nei prossimi 2 perché Eh Ma 4, Ettore Vabbè, vai 4, dai, vai No Devo arrivare all'altro pari Aspetta, qua e qua Sei giusto? Ok Allora Se nei prossimi 3 Aspetta Se nei prossimi 3 O io O te è un leggendario L'avversario può eliminare un Pokémon leggendario Dal team Nell'avversario stesso 1, 2 3 Poi Pol si può contare No, non è leggendario Ah, dai In un'altra creatura si può comunque contare In questa sfida Hai detto leggendario Si può comunque contare Hai detto leggendario Allora lo rifacciamo Se nei prossimi 4 Si può trovare Si può eliminare il Pokémon Della squadra avversaria Beh, prima te L'orso polare No, Ryor no No, neanche lui Neanche lui Ottimo È leggendario Non è leggendario Allora vado io 1 No 2 No 3 No 4 Si Cobalion È un leggendario Si Vai Ottimo Tyranite tra 60 Inutile Inutile Ah Eh, Archius è bello Archius è bello ragazzi Però purtroppo Non c'era nessuna sfida in palio Ora loco Gli ultimi due Fermo Gli ultimi due Allora Tu Il leggendario Ne devi cancellare due Ok Va bene Stessa cosa anche per te 1 E 2 Non ci credo Non ci credo Non ci credo del leggendario No Shymin Non ci credo che l'hai veramente trovato Loco Hai trovato Shymin Che è un Pokémon leggendario Ora Costruiamo le nostre squadre Prima di tutto Io ora andrò a mischiare Tutta la mia squadra Ok Ok L'ho appena mischiata Puoi chiamarmi quindi due Pokémon Da 1 a 6 Dai a eliminare Nel mio team Vai Io ti chiamo il 3 e il 4 Sono Cresselia E Tornadus Eh Pensavo di meglio Pensavo di meglio Io Ti andrò ad eliminare Il Pokémon numero 5 No Chi è? Raikou Vodo Io il tuo nucleo non lo vedo loco Ma a partire così Non mi piace per niente Come cosa Che cos'è Cioè non te lo meriti proprio Cioè non No Anzi non ti faccio proprio nulla Io merito tantissimo No sei super efficace Loco E anche tu Sei super efficace Ti ricarichi pure la vita Io ragazzi Non ho Non ho veramente parole Non ho veramente parole Guarda come recupera la vita Guardate loco Come è fortunato Ok Addio Ci sta loco Che parti più fortunato Va bene Lo accetterò ragazzi Ma Da ora in poi Andrò a giocare Molto sporco Io Avevo una mossa Psichico Cioè non ho Non ho parole Non ho parole Non ho veramente Non ho parole io loco Contro di te però Eh Questa cosa qua Non mi piace Non mi faccio niente Non mi faccio niente però Eh ho sbagliato mossa Tu mi fai poco Ok Meglio Meglio Bravo di Alga Bravo di Alga Che ti sai difendere a modo Perché Dai Allora però Adesso questo luca è intoccabile però Ragazzi eh Ok abbiamo eliminato Meno male Meno male Meno male Meno male Ora hai Deoxys Che è un pokemon interessante Molto interessante Però anche lui loco Cioè Veramente poco Veramente poco Mi fai loco eh Eliminiamolo Questo Deoxys Così Tu hai perso due pokemon Io già due ne avevo persi Ma siamo più o meno pari Ora Non mi aspettavo lui però Non me l'aspettavo Lui no Perché era mossa a ghiaccio Eh sì Non ti faccio niente Guarda qua Guarda qua Però non ti posso più colpire io eh Ti prego Sì 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 Di Alga Sì No no Comunque sei rimasto 11 di vita Ora Abbiamo due cani leggendari Uno contro l'altro Non so tu che mossa possa avere E hai un altro leggendario eh Ok Aspetta ma Ah no Hai letto più foto di acco Sono un pirla Eh sì loco Ho sbagliato tutto In una vita Eh loco Guarda qua Prossima mossa E andrò a eliminare No Da quando hai anche un'ala No è finita La mia sfida è finita La mia sfida è finita ragazzi Oh Dolore Purtroppo ragazzi La mia sfida è finita qua Loco aveva più pokemon di me E questa cosa l'ha aiutato Perché Senza quel pokemon in più Loco avresti perso Ragazzi Loco ha vinto questa sfida Complimenti a lui È stato fortunato È nei lucky block E anche All'interno della sfida Ma comunque Complimenti Noi ci fermiamo qua Scegliete il video qua davanti E ci salutiamo E ci vediamo in un prossimo video Ciao